...pacciassi appunto quell'embargo famoso, quello stop al gas russo. Questo in qualche modo potrebbe convincere Putin a fermarsi? Ma come sia no, perché le vere sanzioni sono forse quelle finanziarie, quelle che fanno più male, quelle che bloccano il circuito finanziario, perché se appunto il gas o il petrolio lo vendono ad altri paesi, però se non si può pagare questo gas, si può anche creare un circuito parallelo, uscire dall'area del dollaro, però è molto complicato, è molto molto lungo, le sanzioni finanziarie a mio avviso sono quelle che fanno più male in questo momento, insieme con, non dimentichiamo un aspetto psicologico, i russi, Putin sono nazionalisti, zaristi in un certo senso potremmo dire, tutto quello che attacca la Russia in quello che per loro considerano cose più importanti, cioè il prestigio internazionale, un posto nel mondo, questo fa male, e a mio avviso dovrebbe spingere Putin a bloccare l'aggressione e sedersi a tavolo, però non da aggressore ma alla pari con l'aggredito Zelensky.